Dopo la mitigazione del decreto del governo sul carovoli, Ryanair lancia un nuovo piano di investimenti per la Sicilia. L'intervento di Wilson e di Schifani. La compagnia aerea irlandese Ryanair, forse anche perché galvanizzata dal dietrofronte del governo a Roma sull'attetto massimo al costo dei bietti aerei, ha appena annunciato per la Sicilia nuovi investimenti rotte aerei e posti di lavoro. Eddie Wilson, top manager della Ryanair, è atterrato a Palermo dove ha presentato personalmente le iniziative della stagione invernale. Dunque, cinque nuove rotte internazionali per Bucarest, Parigi, Praga e Tirana da Catania e Norimberga da Palermo, oltre a un aumento delle frequenze su altre 15 rotte per city break invernali come Barcellona, Bruxelles, Budapest e Cracovia. Poi saranno accessi i motori di un nuovo aereo B737 all'aeroporto di Catania, con un investimento di 100 milioni di dollari e aumentando quindi la flotta in Sicilia con oltre 200 posti di lavoro in più per piloti, personale di cabina e ingegneri. Ryanair è la compagnia aerea numero uno in Sicilia con 74 rotte e circa 9 milioni e 500 mila passeggeri all'anno da e per i suoi tre aeroporti serviti, Catania, Palermo e Trapani. Poi Eddie Wilson si è soffermato anche sulle polemiche per il costo dei bietti aerei e ha replicato «Non siamo il problema, ma la soluzione. Il caro voli è dipeso dalla compagnia di bandiera, Exa, l'Italia, che è sparita e ha ridotto tanti collegamenti tra la Sicilia, meno 36% e la Sardegna. Vi immaginate cosa sarebbe successo se Ryanair non avesse investito in Sicilia?» E poi ha aggiunto «Vogliamo continuare a crescere. Abbiamo discusso con il Presidente della Regione per avere più connettività per la Sicilia. Il decreto legge del Governo ha creato incertezza e si riflette sui voli domestici dove in Sicilia sono previsti sette voli nemmeno. Se il decreto fosse rivisto, Ryanair rivedrà il piano. La nostra compagnia è l'unico vettore che ha la capacità di crescita». E poi Wilson sottolinea «Meno voli, costi più alti. Per questo vogliamo aumentare le tratte in Sicilia e la nostra compagnia è una delle poche che può farlo se si abbassano i costi di accesso all'isola, quindi eliminando l'addizionale comunale. Se la Sicilia eliminerà questa tassa discriminatoria, Ryanair risponderà con ulteriori investimenti, più aeromobili, più rotte, sia internazionali che domestiche, e più posti di lavoro locali che ci permetteranno di aumentare i passeggeri annuali di 3 milioni e la spesa turistica di 1,5 miliardi di euro all'anno. Per celebrare l'aeromobile aggiuntivo alle 5 nuove rotte internazionali per la Sicilia quest'inverno abbiamo lanciato una promozione per due giorni con tariffe a partire da 19,99 euro, disponibili solo su rianair.com». Conclude. E il presidente della regione, Renato Schifani, che ha ricevuto Wilson a Palazzo d'Orlean, commenta Ringrazio Mr. Wilson per la cortese visita. Ho ascoltato con attenzione l'analisi delle attività svolti nel passato dal vettore, che ha portato in Sicilia milioni di passeggeri, contribuendo alla crescita delle presenze turistiche straniere e nazionali sull'isola. Ho inoltre preso atto dei nuovi programmi di investimento della compagnia. Sono pienamente cosciente dell'importante ruolo che Ryanair riveste nel mercato italiano e soprattutto in quello siciliano. Per questo ho accolto la richiesta di un incontro che potrebbe segnare l'avvio di una nuova stagione di dialogo nell'interesse dei siciliani e di quanti vogliono venire a visitare la nostra regione. È chiaro che il nostro obiettivo era e rimane quello di garantire prezzi più accessibili per il trasporto aereo e per questo il mio governo continuerà a fare in modo che sia favorita la libera concorrenza e contrastato ogni episodio di nalce e tappi l'aumento dei prezzi. Valutiamo anche l'ipotesi di avviare un tavolo tecnico per un confronto costante e costruttivo.